La notizia del giorno direi che è il più 5% del decennale americano che ha rimesso la testa di nuovo fuori dal canale di regressione rialzista dopo i due tentativi che vedete qui che sto indicando. Con questi due top c'è stato qualche giorno di pausa che era quello che ci aspettavamo, chi segue lo sa l'avevamo detto, ha dato un po' di respiro per qualche giorno al Nasdaq, i tecnologici sono i titoli più impattati dal rialzo dei rendimenti del decennale, questo è stato il rimbalzo che tecnicamente potrebbe ancora estendersi fino ad area 3,25, però già oggi con questo meno 1,2 il Nasdaq dimostra di dare priorità a quello che è questo famoso andamento del decennale, togliamo il canale di regressione che serviva a far vedere la differenza con l'altro indice principale, il Dow Jones che invece il canale di regressione non solo c'è rimasto dentro ma sta addirittura tentando di superare verso l'alto anche se mancano i volumi. Come vi dicevo ieri abbiamo qui questo fenomeno di calo dei volumi su questi livelli molto alti, siamo ai massimi storici, quindi dopo tra l'altro una gamba, un'estensione al rialzo da 30.600 fino a 32.600, quindi sono 2.000 punti fatti di filato. Secondo me anche questo movimento potrebbe avere qualche battuta d'arresto nei prossimi giorni, quindi il listino americano è assolutamente spaccato in due, guardate giusto per fare un altro esempio, il comportamento del Dow Jones rispetto alla media 200 tende ad allontanarsi, ritorniamo un attimo sul Nasdaq, negli ultimi tempi il Nasdaq tende ad avvicinarsi alla media 200, quindi un movimento correttivo per quello che riguarda i tecnologici ci sta tutto, visti i progressi fatti negli ultimi mesi, segnalo sempre per chi non avesse seguito le analisi precedenti il potenziale testa e spalla segnato qui dai segnetti gialli, questa è la testa, le due spalle destra e sinistra, con Neckline, questa linea bianca tratteggiata, c'è stato un primo tentativo di rendere esecutivo il testa e spalla che ricordo diventa operativo solo quando viene effettivamente rotta la Neckline, i prezzi sono rientrati all'interno, però secondo me qui la partita è ancora aperta, la settimana prossima abbiamo, è una settimana importante perché è il 17 giornata di riunione della Fed, questa settimana c'è stata la riunione della BCE, quindi sarà molto importante vedere quale sarà l'atteggiamento della Banca Centrale Americana davanti al persistente rialzo dei rendimenti del decennale, che attualmente, ritorniamo un attimo sul grafico, siamo a 1,6 e qui abbiamo volendo la strada aperta fino a 2, quindi c'è ancora spazio al rialzo, perché non ci sarebbe assolutamente da meravigliarsi se ci fosse un'estensione a rialzo verso l'area dove mi trovo in questo momento con il puntatore, quindi vediamo se la Banca Centrale sarà accondiscendente rispetto a questo atteggiamento del mercato. Un'occhiata all'oro, che è l'altro strumento che in caso di rialzo dei rendimenti ha dimostrato di soffrire, questo è quello che è stato l'andamento da gennaio, esattamente opposto rispetto a quello dei rendimenti, i rendimenti salgono l'oro da gennaio, vedete che brusca inversione da un'impostazione positiva che aveva fino ai primi del mese, con volatility stop line gialla e crescente, e poi ha cominciato questo trend discendente. Oggi, ennesima visita in area 1.700, un test positivo, l'oro sta dando qualche segnale forse di volersi dissociare da questo andamento degli ultimi tempi, e ci sarebbero i presupposti dal punto di vista tecnico per un rally fino ad area 1.780, che è il primo livello, primo test importante per decretare possibili inversioni più a medio termine, e questo 1.780 dovrebbe essere superato al rialzo, però prima di superarlo bisogna arrivarci, e quindi vediamo se nei prossimi giorni, la prossima settimana, l'oro confermerà quello che è stato il comportamento di oggi. Passiamo all'Europa, il DAX, il DAX quando arriva sui livelli di resistenza comincia a fare i doggetti, le ha fatti anche in passato, lo possiamo vedere in altre situazioni simili, è un'area di resistenza questa, perché oltre a essere massimo storico, ormai siamo da diversi giorni che vengono ritoccati i massimi, non oggi ma fino a ieri abbiamo ritoccato i massimi storici, il DAX ricordo fa queste gambe di 7-800 euro e poi prende il fiato, 7-800 punti e poi prende fiato come minimo per qualche seduta. Poi ci troviamo nella parte alta del canale, oggi ha iniziato a flettere il DMI+, insomma ci sono i segnali per una possibile fase laterale, come minimo anche di storno fino ai supporti in area 14-2, non ci sarebbe assolutamente da sorprendersi, sono i vecchi massimi che potrebbero tranquillamente essere testati, pur rimanendo il contesto assolutamente costruttivo, perché in questo momento così è. Settimana prossima altro evento importante che è quello di venerdì, sono le scadenze tecniche di marzo, molto importanti perché sono le scadenze trimestrali, quindi questo potrebbe dare ulteriore difficoltà all'indice di muoversi in maniera significativa la settimana prossima. Ultima nota a proposito della settimana prossima, un promemoria per tutti, l'America passerà domenica in ora legale, quindi di fatto gli orari dei listini risulteranno anticipati rispetto al nostro orario di un'ora, quindi apertura per Wall Street alle 14.30 ore nostre e chiusura quindi alle 21 ora europea. Questo sarà per due settimane perché poi nell'ultima domenica di marzo anche l'Europa passerà in ora legale, quindi ritorneremo al solito distacco di sei ore di differenza, di fuso orario. Va bene, veniamo alle richieste. Una richiesta era sul Fuzzi Mib che è in una situazione molto simile a quella del Nasdaq, cioè viaggia in questo canale di regressione lineare che ho tracciato per tutti gli indici a partire dal 9 novembre che è stata un po' la data di stacco, vedete questi i famosi gap, i reordering of thinking, questo è l'annuncio dell'efficacia dei vaccini, il primo fu Pfizer se non vado errato, e qui questa è una giornata in cui gli indici performarono più 5-6% dando il via ad un impulso, ecco guardate, questo l'hanno fatto più o meno tutti, un impulso misurato in ampiezza dall'altezza del DMI+, a cui poi è seguito la crescita, perché chiaramente dopo l'impulso iniziale c'è stato comunque un trend rialzista, vedete accompagnato dalla crescita dell'ADX fino al massimo del 2 dicembre, e poi da lì, come spesso accade quando l'ADX arriva a certi livelli, è partita una fase di consolidamento laterale, questo per dire che questo canale di regressione nasce da questo impulso del 9 novembre con il gap del 9 novembre e stiamo ancora campando di rendita dall'impulso dato al sistema in quella data, però quello che faccio notare, ecco a proposito del Fuzzimib, è il progressivo, la progressiva discesa dei valori massimi, quindi siamo in divergenza di DMI+, non sta accompagnando i nuovi massimi, vedete qui c'è stato il nuovo massimo del Fuzzimib, il nuovo massimo di periodo, sono tre massimi crescenti, quattro con quello attuale, e per quattro volte invece abbiamo avuto valori decrescenti di DMI, quindi siamo in un contesto di divergenza che lascerebbe presupporre che può darsi che questo movimento impulsivo partito ai primi di novembre troverà qualche forma di correzione un po' più profonda, non sto dicendo che parte Armageddon da qui, però un movimento correttivo che vada a resettare un po' questa situazione prima eventualmente di partire di nuovo per un'altra gamba impulsiva, anche perché il nostro Fuzzimib nel frattempo, oltre a essere nella parte alta del canale, è arrivato anche in un'altra fascia di resistenza importante che è questa rosa, che vedete andando indietro, ci porta a un altro gap importante, che era il gap aperto il giorno 21 febbraio, che puntualmente, come spesso accade, prima o poi, si usa dire, i gap vengono rivisti, se ce l'avessero detto qui, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto e invece ci siamo arrivati, quindi però i gap sono anche, poi costituiscono delle resistenze, quando poi vengono rivisitati, ci vuole un po' di tempo prima di superarli, quindi morale della favola, sommando tutti questi indizi tecnici, il nostro Fuzzimib credo che 24.000 sarà un'area di resistenza importante, che non credo che riuscirà a superare con l'attuale stato di tensione degli indicatori, comunque vedremo la settimana prossima, sicuramente ci darà delle indicazioni importanti. Altra richiesta, Interpump, titolo in condizione tecnica assolutamente smagliante, perché siamo ai massimi storici, passiamo addirittura al grafico mensile, per vedere come sono stati rotti nel mese di novembre, i massimi storici, e il titolo rimane assolutamente ben impostato, è in una situazione, in questo momento, chiaramente di eccesso, dopo l'ennesima gamba, l'ennesimo impulso a rialzo, però vedete quello che vado segnalando, cioè si fa il nuovo massimo, però si raggiungono valori di momentum quantomeno uguali a quelli dei massimi precedenti, questa è una situazione tecnica robusta, ecco, quindi Interpump sicuramente sarà soggetto a delle correzioni, perché non è che si sale sempre, però sta dimostrando di avere ancora delle potenzialità. Situazione diversa, per un altro titolo importante nel nostro listino, è InWit, InWit si muove in maniera oscillatoria attorno alla media 200, e ha dei valori importanti di supporto in area 8, 8 e 1, che finora non ha violato al ribasso, cioè sono valori a ridosso dei quali i compratori si fanno vedere e come, guardate il bullish engulfing di qualche giorno fa, che tra l'altro è avvenuto con un test al ribasso, tipo, quindi questo è tipo spring, cioè la molla, il test quando si va a vedere sotto i supporti se c'è capacità di prosecuzione al ribasso, non c'è stata, la reazione verso l'alto è stata molto violenta, quindi può darsi che questo sia l'ultimo pullback prima di un nuovo movimento verso l'alto, perché InWit ce l'ha questo comportamento negli ultimi tempi di oscillazione, come vedete, sotto la media 200, poi sopra la media 200, quindi non c'è, non ci sarebbe da meravigliarsi se tentasse di nuovo una gamba verso area 10, 10 e 5, massima attenzione va apposta a questo livello di 8 e 1 proprio per quello che ho detto prima, cioè perché fino a pochi giorni fa qui i compratori si sono fatti vedere se per caso i prezzi dovessero andare a rompere quel livello lì significa che qualcosa è cambiato, quindi un attimo che cancello i disegni altrimenti facciamo troppa confusione quindi il livello di 8 e 1 va controllato attentamente perché altrimenti appunto dicevo può darsi che la situazione nel frattempo sia cambiata. Verso l'alto guardate come la volatility stop line abbia funzionato bene da resistenza e lo abbia fatto in fondo anche oggi perché oggi comunque è un meno 3% bello secco di allontanamento veloce dalla volatility stop line però attenzione perché il superamento di 9 secondo me apre la strada a questo famoso rally verso area 10 con stop in area 8 e 2 8 e 1 va bene oggi venerdì siamo allungati un po' siamo a 14 minuti di video settimana finisce qui l'america ancora non ha finito quindi quello che vi ho fatto vedere prima chiaramente ci sono ancora due ore di contrattazioni e comunque per il momento la situazione sembra ancora abbastanza stabile grazie per l'attenzione ci aggiorniamo a lunedì lasciatemi come sempre in basso nei commenti le vostre segnalazioni o richieste anche per gli amici che ci seguono da youtube e per il resto buon fine settimana ci sentiamo lunedì grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione